A Roma c'è uno scontro che va avanti da migliaia di anni, quello tra il nord e il sud. Ma c'è stato un tempo in cui le due metà della capitale sono vissute in pace. Aremo, è un scondido, è il lì. Se è il lì, è il meridione, è il settentrione. Quando è il fuoco, è il fuoco. In effetti. Sì, frate, qui debbo dipidicere. Mì, il meridione mi piace. Sfettus mendicus. Qui dichis? No, dico qui dichis. Ah, cani spilius! E' debili, su, stettibule! Da allora la rivalità non ha avuto tregua. Ratto delle Parioline, 648 a.C. Schiaffo di Anagnina, 1527 d.C. Breccia di Corso Francia, 1870 d.C. Fino al giorno d'oggi. Puoi proporzional, 1527 d.C.